In occasione della settimana contro la violenza di genere, Hauser presenta la mostra Arte e Donna dedicata alla pittrice Silvana Iaccheri. L'esposizione è visitabile presso la sede provinciale Hauser di Reggio Emilia. Silvana, l'artista, è una nostra volontaria da tempo, è anche la presidente di Scandiano, è la coordinatrice del distretto Tresinaro-Secchia ed è anche un'artista che si dedica soprattutto al disegno a matita. Abbiamo guardato le sue opere, ci sono piaciute molto, dovevamo aiutarla noi di Hauser per allestire questa mostra, soprattutto in questo momento dedicata alle donne e siamo orgogliosi di questo perché Silvana è una gran donna, è giusto che noi mettiamo in luce la sua vena artistica che per noi è importante. Grazie ad Hauser Provinciale che mi ha dato questa grossa opportunità, proprio anche in questa giornata molto importante perché dobbiamo darci da fare sulla violenza, sulla violenza di genere. Qua vedete delle opere con matita, questo in acrilico. Raffigura la mano della donna con il seme, perché è il seme della vita, perché è la donna. Mi si chiederà il perché è così grande, perché voglio far capire che è la donna che crea. Voglio che si veda comunque, dare importanza alla donna, mai come il giorno d'oggi. Come è nata la passione per la pittura, per il disegno? Quando sono andata in pensione mi sono data il tempo per tirar fuori quello che io avevo dentro. L'arte mi fa star bene, come mi fa star bene? Farla volontaria, dedicarmi agli altri, alle persone fragili, perché credo che essere al fianco delle persone sia un bel messaggio per me e per gli altri. Ci parli dell'associazione artistica che lei presiede e di cui fa parte anche Silvana Iaccheri? Sì, l'associazione ha 15 anni e è di scandiano. Ci sono molti scritti che sono pittori, fotografi, scultori, mosaicisti. E siamo in tanti, fra questi, ci abbiamo anche come associata Silvana Iaccheri, che noi siamo anche orgogliosi che lei possa essere una nostra associata perché è molto brava. Infatti si vede anche da questa mostra che è esposto qui all'Auser, con tutti questi visi di donne riferiti al tema proprio della donna. Sono molto contenta di partecipare a questa mostra di Silvana, una grande volontaria ma soprattutto una grande donna, sempre dalla parte delle donne. La sua particolare sensibilità a questo tema si vede appunto dai tratti dei vari dipinti suoi, a partire dal tema della maternità, quello della violenza, la donna androgina. È una donna libera e felice, come dovrebbe essere sempre in un mondo così tanto complicato in questi giorni. Sono molto contenta che ci sia questa sensibilità particolare a questo tema, soprattutto che venga da una donna, che sia dalla parte delle donne, con le donne e soprattutto che creda nell'amore sempre. Auser ospita una mostra perché crede nella cultura e negli ultimi anni ha spinto molto in questa direzione. La cultura nobilita sicuramente le persone e la cultura cambia anche il clima culturale di un paese. Quindi noi cerchiamo proprio di portarla avanti molto e poi Auser Nazionale ha proprio una sezione dedicata alla cultura.